Il Parlamento ha approvato una legge La legge è entrata in vigore, come ogni legge anche questa legge va interpretata Il faro principale nell'interpretazione è la gerarchia delle fonti Il nostro primo punto di riferimento è la Costituzione Chiaramente la legislazione comunitaria, i trattati internazionali, le leggi ordinarie Hanno scaricato su noi sindaci l'interpretazione immediata della legge Perché non è che i diritti possono aspettare Stiamo adottando atti, provvedimenti, stiamo facendo interpretazioni Questa è un'indicazione che io do al dirigente dell'ufficio anagrafe del Comune di Napoli Dell'inserimento nell'elenco dell'anagrafe del Comune di Napoli Di persone che possono ottenere così una residenza temporanea Parliamo dei richiedenti asilo, quelli che rimangono per colpa di questa legge Privi della protezione umanitaria internazionale E diamo loro anche un luogo, un domicilio Che è l'ufficio del Comune di Napoli Quello preposto al contrasto alla povertà e al sostegno delle fragilità Quindi non è un atto di disapplicazione della legge o di disobbedienza È un atto di ubbidienza alla Costituzione Perché esistono persone che non è che per voluntas legis di qualcun altro Possono diventare persone invisibili Che da un giorno all'altro non esistono Questo può valere per qualche Ministro della Repubblica Italiana Ma non per noi che stiamo sul territorio e le persone le vediamo Le guardiamo, le sentiamo e ne avvertiamo bisogni e diritti Secondo il faro dell'articolo 3, primo comma della Costituzione Le persone non possono essere discriminate in base al colore della pelle Lei ha avuto modo di sentire il Presidente del Lanci dopo l'incontro di ieri? L'incontro di ieri come sapete io non c'ero Molti sindaci mancavano C'era una delegazione scelta dal Presidente del Lanci Che ha avuto un incontro che so essere proficuo Per come l'ha detto il Presidente del Lanci e il Presidente Conte Stamattina ho sentito il Presidente del Lanci L'incontro verteva su alcuni punti Su cui evidentemente ci stava la possibilità Di raggiungere una proficuità di contatto col governo Al fine di una circolare interpretativa Ma come in questo ha detto anche il Ministro Salvini E come questo vale anche per noi La legge per certi aspetti è chiara Quindi alcuni profili sono incostituzionali E non spetta chiaramente né a me né a un Ministro dichiararli tali Ma bisogna sollevarli davanti alla Corte Costituzionale Ma come ho detto prima Poi ci stanno dei profili che si possono interpretare Vediamo per alcuni la circolare interpretativa del governo E quali sanno le disposizioni Per altre non è che ce lo deve dire Salvini O De Caro o Conte come si interpreta la legge Questo spetta a ognuno di noi Spetta al Sindaco di ogni Comune d'Italia Spetta alle persone che si trovano di fronte a leggi Che devono interpretare Noi non scappiamo di fronte a questo E la interpretiamo Quindi il giudizio nei confronti della legge Anche dopo l'incontro Anci-Governo È un giudizio assolutamente negativo Da parte mia, da parte nostra Per come l'abbiamo letta con attenzione E tra qualche settimana e tra qualche mese Si avvertirà nel Paese Quanto questa legge accentui L'insicurezza del nostro Paese Aumenti la clandestinità Aumenti l'illegalità Aumenti la concentrazione solo in determinati luoghi Aumenta quei fenomeni Che ad alcuni italiani A una parte del nostro Paese Provocano pericolo Percezione di pericolo O chiamiamolo per altri disturbo Quindi esattamente il contrario di quello Su cui noi stiamo lavorando Cioè quello di fare un'integrazione diffusa Sul territorio europeo e nazionale In proporzione con il numero di abitanti Per ogni territorio Con persone che hanno diritti e doveri E che quindi non si avverte Quel senso di disagio da parte di nessuno Non si avverte la percezione assolutamente strumentalizzata Di invasioni Perché invasioni non ci sono E smascheriamo anche dalla città di Napoli Che è anche la città di Puccinella Quindi Puccinella è una maschera Che toglieva anche la maschera delle bugie dei potenti Che questi andranno a rimpatriare tutte le persone Abbiamo fatto un calcolo Ci vorranno circa 80 anni Quindi da questo punto di vista Noi ci troviamo di fronte a una legge Dell'insicurezza nazionale Che siamo costretti Perché siamo in uno stato di diritto Ovviamente ad applicare Però siamo felici di applicarla Secondo la Costituzione Che non è voluta da questo governo Ma dai padri costituenti Nell'ottica della resistenza al nazifascismo